Ciao, con questo video voglio spiegarti la differenza che c'è tra un'arnia naturale e un'arnia razionale. Forza allora, andiamo a vedere insieme che differenze ci sono. Innanzitutto l'arnia razionale, o da Dunblat, è un'arnia molto semplice da costruire e molto semplice da dover trasportare. È un'arnia che infatti utilizza praticamente la quasi totalità degli apicoltori qui in Italia. Ed è un'arnia che si presta molto bene per l'allevamento dell'ape ligustica. Diciamo che è un po' l'arnia per chi vuole fare appunto produzione. È l'arnia numero uno per la professione. Ovviamente se facciamo apicoltura biologica dobbiamo prestare alcune attenzioni nella costruzione dell'arnia. Innanzitutto deve essere costruita in legno e deve essere verniciata soltanto all'esterno con vernici naturali atossiche. Molte persone nei nostri social o nei nostri corsi ci chiedono se va bene una normalissima vernice all'acqua. La risposta è no. La vernice all'acqua non è atossica. Ci sono delle aziende in Italia che le producono come per esempio la Spring Color, che è un'azienda che le produce da tantissimi anni e le produce come si faceva una volta. Non vi dico poi il giallo, è buonissimo, sa di fiori di arancio. Poi l'arnia, secondo me, deve avere altri piccoli accorgimenti. C'è un'arnia da Dumblat con il portichetto davanti e l'arnia senza portichetto. In realtà l'unica differenza è che una è da nomadismo, quella senza portichetto, cioè il cubo, e l'altra invece è da apicoltura stanziale. In realtà io personalmente non amo molto quella col portichetto perché comunque è un po' più pesante. Io amo molto di più il cubo. Questo anche perché, anche se magari non effettuiamo nomadismo, ogni tanto dei piccoli spostamenti è necessario farli. E quindi è meglio farli con un'arnia che è molto più leggera per noi. In realtà le api non comportano nessun tipo di problema avere o non avere il portichetto. Le api si adattano veramente molto bene a qualsiasi cosa. Malgrado quel che se ne pensi nel nostro settore, l'arnia non è un fattore rilevante per la sopravvivenza delle api e soprattutto non è un fattore rilevante per la varroa. Quindi le api stanno dove le mettete. Perciò diciamo che la Dumblat è una delle arni migliori appunto per il nomadismo e la produzione, soprattutto se utilizziamo dei fogli cerei già costruiti all'interno dell'alveare. Ma niente vieta di utilizzare favo naturale all'interno dell'arnia Dumblat. Per esempio se vogliamo entrare nel marchio biodinamico ovviamente dovremmo avere la quasi totalità delle arni a favo naturale. Quindi possiamo anche avere delle Dumblat appunto a favo naturale. Con il favo naturale le api sono molto più tranquille anche perché costruiscono le cellette secondo la loro dimensione, che è un pochino più piccola rispetto a quella che invece gli diamo a noi con il foglio cereo. Inoltre la comodità della Dumblat è proprio riguardo la produzione, perché basta inserire sopra un melario con tanti telaini che possiamo toglierlo e prendere il prezioso nettare. Quindi anche la facilità di utilizzo è veramente veramente semplice. Quindi il mio consiglio è di adoperare questo tipo di arnia se vogliamo produrre, cioè se vogliamo avere un'azienda da produzione, sia che sia biologica o che sia convenzionale o che sia appunto legata alla sostenibilità ambientale. Detto questo andiamo a vedere la seconda tipologia di arnia. Ovviamente qui ce ne sono tantissime. Diciamo nell'apicoltura bifriendly o sostenibile troviamo tantissime tipologie di arnia, come per esempio il bugno rustico, l'arnia varre, l'arnia kenia top bar. Però io in questo vlog voglio parlare esclusivamente della kenia top bar. Questo perché? Perché noi ne abbiamo provate tantissimi tipi e probabilmente quella che ha il maggior rapporto tra la qualità di utilizzo e la qualità di vita delle api, secondo noi, è questa. Almeno in questo momento storico. Noi abbiamo da circa una quindicina d'anni delle kenia top bar e delle arnie varre e dei bugni rustici. Questo ci ha permesso di capire come queste api interagivano all'interno di questo tipo di arnia. L'utilizzo di queste arnie è nato dopo un viaggio che ha fatto Marco in Kenya, ormai circa 20 anni fa, per una grandissima azienda leader nel mondo della naturopatia. E questo gli ha permesso di studiare in che modo le api vivevano all'interno di quel tipo di arnia. E il risponso finale è stato che questo tipo di arnia è adatto assolutamente per chi vuole fare obbismo. Ma che differenza ha, per esempio, rispetto a un'arnia varre? Beh, in realtà ce n'è una proprio sostanziale, che è l'apertura dell'alveare. Cioè con la kenia top bar è possibile visitare l'alveare come una da Dan Blatt. Invece un'arnia varre non è possibile. E quindi purtroppo in tantissime regioni d'Italia non è permesso addirittura avere un'arnia varre. Cioè un'arnia che non è possibile visitarla dal punto di vista sanitario. Questo dovete verificarlo con la vostra ASL nel coso in cui vorreste mettere un'arnia varre. O comunque un'arnia che non si apre, come per esempio un bugno rustico. Detto questo, perché scegliere una kenia top bar? Beh, la kenia top bar innanzitutto è a favo naturale. E le api costruiscono secondo la loro naturale inclinazione. E devo dire che nel tempo questo ci ha permesso di capire che sono anche molto molto meno aggressive. La produzione è all'incirca un terzo di quella di una da Dan Blatt. Ma devo dire che la bontà del miele è veramente veramente più elevata. La prima volta che l'ho assaggiato è stata un'emozione veramente forte. Perché ho detto, beh, io fino adesso non ho mai assaggiato un miele. Ovviamente è un'arnia che non è spostabile. E ha anche dei punti diciamo un po' critici. Per esempio nel momento in cui appunto dobbiamo spostarle. Perché avendo il favo naturale i favi sono veramente veramente fragili. Anzi bisogna stare anche molto attenti quando tiriamo fuori i telaini dall'arnia e li visitiamo. Perché dobbiamo fare dei movimenti molto molto delicati e molto molto brevi. Questo perché altrimenti si spezzano. Un altro fattore un po' di rischio è il calore. Quando ci sono delle annate molto molto calde i favi tendono a sciogliersi. Quindi è molto importante fare un'intercapedine tra il tetto e poi i telaini che troviamo di sotto. Ovviamente questo è un tipo di arnia pazzesco per chi fa ubismo. Però ci sono alcuni nostri corsisti che nel corso degli anni hanno aperto proprio delle vere e proprie aziende con soltanto delle Kenya Top Bar. Ovviamente è un mercato che ancora non c'è ed è un mercato che potrebbe essere anche in espansione. Ma dipende da te saperlo sfruttare. Quindi andiamo un po' a ricapitolare quali sono i punti pro e contro di tutte e due le arnie. Se stai scegliendo un'arnia per produrre una buona quantità di miele, la tua necessità e la facilità di utilizzo, allora credo che la Dadan Blatt sia perfetta. Se pensi che la tua attività non sia assolutamente professionale o comunque vuoi buttarti in un'attività professionale, ovviamente con maggiori difficoltà perché è un mercato ancora in espansione, allora puoi andare sulla Kenya Top Bar. Però il mio consiglio, quello che mi sento di dirti veramente, è non andare ad apportare delle modifiche alla Kenya Top Bar per farla produrre di più. Questo perché? Perché c'è già la Dadan Blatt che produce molto bene il miele, ma non solo, anche tantissimi altri prodotti dell'alveare. Per esempio noi siamo stati i primi in Italia ad aver inserito una rete per poter produrre l'apropoli. Ovviamente se fai convenzionale lascia perdere perché non c'è proprio mercato dell'apropoli. Invece se fai biologico è molto importante avere una rete di raccolta dell'apropoli. Ovviamente in entrambe le arnie puoi effettuare qualsiasi tipo di trattamento. Questo perché tutte e due le arnie sono tranquillamente visitabili. Puoi tranquillamente dare qualsiasi tipo di trattamento, ovviamente certificato biologico. Puoi fare l'acido ossalico spruzzato, gocciolato, l'acido formico oppure il blocco di covata. Ricordati soltanto una cosa però, che è la vera differenza, che è un po' l'estrazione del miele. Nella Dadanblat per estrarre il miele devi farlo tramite centrifugazione. Invece nell'altra lo devi fare tramite torchiatura o spremitura. Nella Kenya Tobar quindi si fa molta più cera, invece nella Dadanblat se ne fa molta meno. Però la produzione di miele è molto più grande nella Dadanblat rispetto alla Kenya Tobar. La Kenya Tobar si smiela a fine anno, quindi il miele che produci sarà per forza un miele millefiori del luogo dove è stato prodotto. Invece nella Dadanblat puoi tranquillamente fare i monoflora. Spero con questo video di averti aiutato a capire e a scegliere qual è l'arnia migliore per la tua azienda e per la tua attività anche se hobbistica. Ci vediamo alla prossima lezione.